Aspettando i calendari che la Lega Pro emanerà questa sera, l'ora di pranzo del lunedì ha servito sul piatto dei tifosi della Vispesero il nuovo girone della Serie C Girone B 2021-2022, quarto campionato consecutivo dei Biancorossi nel professionismo. È però un girone monco perché delle 20 squadre previste ne figurano soltanto 19. La ventesima è una X che verrà risolta domani assieme al ricorso del Fano al Collegio del Garanzia del Coni dopo l'esclusione dei Granata dalle graduatorie dei ripescaggi. Se non sarà accettata la remissione del Fano toccherà alla Pistoiese completare un girone molto diverso dai precedenti. Infatti la Vis non svalicherà più il Po in direzione degli stadi del Triveneto ma piuttosto farà un coast to coast verso il Tirreno giocandosela con Toscane, Laziali, Liguri e pure una traversata in Sardegna che non avveniva dagli anni 90. Ci sarà infatti l'Olbia così come la Ligure Entella, la Laziale Viterbese e tanta Toscana, ovvero Montevarchi, Carrarese, Grosseto, Lucchese, Pontevera, Siena e forse la Pistoiese. Tornano le abruzziesi Pescara e Teramo, rimane la Umbra Gubbio e un quartetto emiliano-romagnolo composto da Cesena, Imolese, Modena e Reggiana. Aspettando il ricorso del Fano, oltre alla Vis, le Marche saranno rappresentate dalla sola Fermana e dalla neonata Ancona-Matelica. Vis che intanto prosegue il suo lavoro sul campo dopo il ritiro di Chianciano Terme, sabato mattina c'è stata infatti la prima apparizione al Benelli con l'amichevole che ha visto i biancorossi battere 1-0 alla Nazionale di San Marino grazie al gol dell'argentino Martin Tonso. Ma per dare minutaggio all'intera rosa è stata anche prevista nello stesso pomeriggio di sabato una seconda amichevole vinta dalla Vis 3-1 in trasferta con l'Urbino grazie alle reti di Gucci, Mercuri e Accursi. Insomma fa piacere che anche in questa seconda amichevole ufficiale non si sia preso gol, è importantissimo secondo me il fatto che i ragazzi hanno avuto un atteggiamento collaborativo, si sono aiutati e siamo stati secondo me a lunghi tratti padroni del campo, abbiamo dominato il gioco sia nella fase di possesso che in quella di non possesso, si sono sacrificati molti giocatori offensivi, dietro non abbiamo rischiato praticamente niente, quindi sono soddisfatto di questo aspetto perché non è banale. Aver fatto 70 minuti e poi non per ultimo il fatto che comunque dai non abbiamo avuto problemi, non si è fatto male a nessuno, quindi siamo soddisfatti. Il risultato poi è una conseguenza, non ci serve oggi però comunque fa piacere. L'identità deve essere basata sui principi, quindi una squadra aggressiva, a me piace pensare a una squadra organizzata che ha equilibrio indipendentemente dal sistema di gioco, poi dopo l'obiettivo è quello nel periodo precampionato di trovare delle alternative che in futuro ci serviranno. Dobbiamo essere più propositivi, dobbiamo portare più giocatori in aria, dobbiamo pensare che queste partite ci servono per capire dove migliorare. Io penso sempre che se la palla ce l'hai tu, gli altri difficili che ti fanno male, quindi preferisco tenere la palla, lontana dalla nostra porta e poi trovare le soluzioni verticali che invece ci fanno fare gol.